Musica Bentrovati, ad ora TG, la cronaca in apertura, tentato furto con spaccata in un negozio di abbigliamento di tre mestieri etneo, ma il colpo è fallito, i ladri sono stati colti di sorpresa una volta all'interno dal sistema antifurto dotato di fumogeni. Sono così fuggiti a mani vuote, ma sono stati poi raggiunti poco dopo ed arrestati. Naturalmente le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso la scena. Sentiamo il servizio di Filippo Romeo. Armati di mazze da carpentiere, li vedete, avevano sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento a tre mestieri etneo nella zona di Canalicchio. È finito male però l'ennesimo furto con il metodo della spaccata nell'Interland etneo. Il colpo è fallito e tre malviventi sono stati arrestati. Il sistema di allarme di ultima generazione, installato nell'esercizio commerciale con fumogeni interni che si attivano al primo tentativo di effrazione, ha costretto i tre latri ad abbandonare il negozio, riuscendo a tirare fuori solo un manichino con indosso dei vestiti che però hanno lasciato sul posto. Intanto scattato l'antifurto, mentre una volante ha raggiunto il luogo dell'assalto, tre pattugli hanno battuto le zone di San Cristoforo e Librino per intercettare gli autori che poco dopo sono stati rintracciati. Arrestati per furto pluriaggravato dagli agenti della squadra mobile di Catania, Giovanni Arena di 26 anni e ripregiudicati, Mirco Termini di 18 e Salvatore Concetto Baccalluzzo di 23. I tre, fuggiti a bordo di una Fiat Stilo, sono stati rintracciati in via Pulè, nel quartiere di San Cristoforo, dove avevano parcheggiato l'auto. Sono in corso indagini per verificare se siano i responsabili di altri colpi commessi con le stesse modalità. E a Zafferana e Milo scosse di terremoto sono state avvertite nelle ultime ore dalla popolazione in allarme, epicentro tra l'Etna ed i Nebrodi, c'è paura dopo i fatti del centro Italia dove la terra continua a tremare. Sentiamo il servizio. Addestato per occupazione la scossa di terremoto lieve ma molto superficiale, avvertita ieri nel territorio tra Zafferana e Tenea, Milo, Trecastagni, Pedare e Acireale. La terra ha tremato alle 12.04 sulla Sicilia orientale e le pendici dell'Etna. E secondo i dati dell'INGV il sisma ha avuto una magnitudo di 2.2 sulla scala Richter, con ipocentro fissato a solo 2,4 km di profondità. L'epicentro è stato individuato sul lato est dell'Etna, proprio in corrispondenza con Zafferana. E la scossa è stata avvertita proprio perché l'ipocentro è stato abbastanza superficiale. Il tremore è stato nitidamente avvertito anche nelle vicine Milo, Trecastagni e Pedare. Non c'è ancora nessuna certezza, ma l'evento sismico potrebbe essere legato all'attività vulcanica dell'Etna. E non si esclude quindi che possa essere imminente un nuovo evento eruttivo che interessi la montagna. Peraltro nella giornata di ieri 6 novembre l'INGV ha continuato a registrare scosse di terremoto in centro Italia, in maniera specifica nella zona di Macerata, Perugia e Rieti, con una scossa avvertita anche all'Aquila. Quella più forte invece è stata registrata stanotte con epicentro a Camerino nelle Maceratese. In quella zona al momento sono circa 30.000 le persone sfollate, assistite dalla protezione civile. Ed intanto ad otto giorni dall'omicidio di Dario Chiappone, avvenuto lunedì scorso, a riposo, si indaga ancora sul misterioso delitto. I carabinieri seguono piste precise. Droga, un debito, forse contratto tempo fa o movente passionale. Sentiamo. Resta avvolto nel mistero il brutale omicidio di Dario Chiappone. Accoltellato e sgozzato, non è discorso qui in via Salvemini, a riposto. È stato il medico legale Cataldo Ruffino ad eseguire l'esame autoptico all'ospedale Garibaldi di Catania, mentre si attendono anche i risultati della scientifica sulle impronte rilevate sull'auto, una Suzuki 64, di proprietà della compagna della vittima, unica testimone oculare. E si scava sulla vita privata del 27enne, anche attraverso i suoi recenti contatti telefonici. Si sentiva seguito, era inquieto Dario negli ultimi tempi. Le motivazioni potrebbero essere legate al suo assassino. Dal suo passato, finora, sarebbe emerso solo qualche piccolo problema legato al consumo di stupefacenti, per cui avrebbe contratto debiti ed un anno e mezzo fa era stato pestato. Certi ambienti non perdonano. Non si esclude che questa volta qualche creditore spietato abbia messo in atto una lezione mortale. Ma resta in piedi anche il movente passionale. Per questo gli investigatori stanno approfondendo gli eventuali risvolti della relazione con la 41enne. Sull'esecuzione, molto hanno raccontato le telecamere private della zona. Ad agire è stato un commando di tre persone, due uomini incappucciati ed un terzo rimasto in auto. Nessuna traccia al momento dell'arma servita a sferrare le coltellate e a tagliare la gola. E ancora cronaca, colto da Raptus, scaraventa l'ex moglie giù dalle scale. Prima però l'ha colpita ripetutamente alla testa con una statuetta in marmo. I carabinieri della tenenza di Mascalucci hanno arrestato in fragranza un 45enne di Belpasso per lesioni personali aggravate. E' accaduto appunto a Mascalucci, a casa della donna, precipitata dalle scale durante l'aggressione grazie ad un vicino di casa. Anche egli picchiato perché è intervenuto a difesa della donna che ha chiesto aiuto al 112. In pochi minuti due pattuglie sono intervenute sul posto e dopo una breve colluttazione sono riuscite ad ammanettare l'uomo. Ora si trova nel carcere di Piazza Lanza. Voltiamo ancora a pagina, ci occupiamo dell'ITER per la Costituzione della Camera di Commercio del Sud-Est. Oggi nuova conferenza stampa della Cordata che fa capo a Conf Commercio. Sentiamo i dettagli. Dovrebbe ormai essere imminente la Costituzione della Camera di Commercio del Sud-Est stamattina nella sede catanese. Importante incontro alla presenza anche dei responsabili di Siracusa e Ragusa. oltre ad altre sigle direttamente interessata alla vicenda. Per la fiducia che ho del Presidente Crocette e dell'Assessore Lobello devo dire di sì. Io ho documenti da loro mandati in cui si dice che questa settimana si chiude, una vicenda che è andata troppo in là. Ma soprattutto sono convinto che non potrà non essere così perché la situazione economica dei nostri territori, c'è qui il Presidente dell'Agricoltura che sta vivendo un momento difficilissimo, non può vedere l'assenza dell'istituzione camerale. Qui non stiamo parlando di posti, stiamo parlando di problemi. Qualcuna le idee è confuse. Ora si tratta di andare avanti, di recuperare il tempo perduto. Tenete conto, noi non abbiamo mai fatto la battaglia dei posti. Non siamo come gli altri. Ritengo che il segnale che è giunto dalla Confindustria di Siracusa di smentire quello che un ex Presidente aveva affermato sia un fatto estremamente positivo. Esiste, come io penso da tempo, all'interno anche delle parti che si dicono nostri avversari, ma che in realtà sono poi delle persone con cui dovremo inevitabilmente collaborare, esiste una volontà di rilanciare un momento di confronto invece che di scontro. Quello che ci preoccupa è che una parte della politica di Siracusa si sia schierata a favore di questi soggetti infischiandosene delle difficoltà proprio dell'ente camerale che da qui a breve non avrà i soldi nemmeno per gli stipendi. Tutto questo ha portato e porta un danno al territorio, alle aziende e ai lavoratori. E la politica, una parte della politica, piuttosto a fare ciò che è giusto, pensa di fare ciò che gli conviene. Ma su questo poi ci rivedremo al prossimo appuntamento elettorale. Ed intanto a Cireale si dota del primo regolamento per impianti termici della provincia, caldaie e climatizzatori. La Giunta ha varato un importante documento che adesso passa al Consiglio Comunale. Sentiamo Salvo Cutuli. L'efficientamento energetico passa anche dalla buona manutenzione delle caldaie di casa. Cireale si adegua alla normativa nazionale e redige un regolamento definitivo secondo le direttive nazionali, concluso l'itere della Commissione. Una volta approvato dal Consiglio, il regolamento sugli impianti termici sarà operativo e a costo zero per il Comune. Il primo ad entrare in vigore in tutta la provincia di Catania. Alcuni comuni della Sicilia già se ne sono dotati, ma in provincia di Catania saremo il primo Comune a dotarsi di questo importante strumento, soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Quello che mi preme dire è che l'operazione sarà a costo zero per il Comune ed è fondamentale che ci sia un protocollo di intesa tra le associazioni di categoria dei manutentori e quelle dei consumatori, proprio per evidenziare quali possono essere le problematiche delle tariffe per chi ha più bisogno e da necessità che le tariffe non siano elevate. La Commissione si muove su più direttrici, stabilendo regole chiare e accordi tra associazioni di consumatori e manutentori allo scopo di allacciare intesi su tariffe trasparenti e a prezzi calmierati. L'atto ha già superato il varo della Giunta, Salvo Grasso e l'energy manager del Comune di Acireale. Questo regolamento riguarda principalmente gli accertamenti e le ispezioni che si faranno sugli impianti termici nel senso che siamo tutti tenuti per questione sia di sicurezza sia di contenimento energetico a fare una giusta manutenzione, l'iscrizione al catastro termico regionale e di conseguenza a tenere l'impianto in perfetta efficienza e quindi in perfetto funzionamento. Ispezioni adeguamenti tecnici e sicurezza vanno di pari passo, spiega l'assessore all'ambiente, Francesco Fichiera. Consentirà di avere per i nostri concittadini la possibilità di adeguare e tenere costantemente verificati i propri impianti termici, dalle caldaie o climatizzatori. Questo consente da un lato una maggiore sicurezza per questo tipo di impianti e dall'altro di avere impianti sempre più efficienti e che consumano di meno. Ci spostiamo invece a Giarre dove stamane è stato presentato il progetto Eco Premia. il nuovo sistema di riciclo dei rifiuti e si parte dal cartone. Melo Nicodemo. Presentata a Giarre nel Salone degli Specchi del Comune, una iniziativa che invite i cittadini a depositare cartoni in zone dove verranno posizionati dei contenitori di raccolta che rilasceranno tramite una tessera magnetica dei punti da utilizzare poi presso commercianti convenzionati per poter avere degli sconti. Questa iniziativa denominata Eco Premia viene attuata in molte città italiane dove ha dato dei buoni risultati e tra l'altro in comuni dove la differenziata non è ancora in vigore, Giarre è uno di questi, può essere un incentivo in più. Inoltre al momento si parte con i cartoni, poi nel tempo si andrà con vetro e lattine. Gli sconti e le agevolazioni per il cittadino e questo è il senso del sistema che verrà incentivato ad effettuare la raccolta differenziata. Se nelle località non è presente una raccolta differenziata può essere un buon punto, un buono spunto, un buon punto di partenza per incrementare, per fare da apripista alle varie iniziative che le amministrazioni comunali andranno a fare. L'iniziativa ha il pieno appoggio come è naturale da parte dell'amministrazione comunale. Intanto per la prima volta sono contento, si parla del rifiuto come una risorsa, una risorsa che va gestita, va in qualche modo ottimizzata e questo progetto che oggi viene presentato praticamente è una metodologia importante perché svolge una funzione non solo culturale e la differenziata è una questione culturale ma anche concreta, pratica perché permette di differenziare un prodotto e in cambio con chi lo sta promuovendo elagirà dei benefit che potranno essere spesi immediatamente. Ad ora una vicenda di cui ci eravamo già occupati nei giorni scorsi sarà riattivato mercoledì prossimo il servizio mensa per le scuole comunali di ACI Sant'Antonio è stato riaffidato dal comune alla ditta che sino allo scorso anno gestiva la refezione reciso invece il contratto dopo i casi di intossicazione di tre alunni dell'istituto comprensivo Alcide De Gasperi all'impresa di Mascali che si era aggiudicata l'appalto. E adesso ancora nelle scuole con il progetto Legalità Educazione Stradale continuano ad Acicatena gli incontri della Polizia Municipale appunto con gli studenti. Il progetto Legalità nelle scuole di Acicatena in provincia di Catania e stamani ha fatto tappa nella scuola elementare Madre Teresa di Calcutta nel popoloso quartiere Loco facente parte del primo circolo didattico Emanuele Rossi dove il ciclo di incontri con gli alunni è stato avviato qualche settimana fa con successo coinvolgendo centinaia di ragazzini che hanno partecipato agli appuntamenti e dialogato a lungo con gli agenti impegnati a spiegare loro le regole della strada dal codice stradale al corretto comportamento che debbono tenere i pedoni. Il progetto Legalità nelle scuole Catanote impegna anche i bambini della scuola primaria per il quale è stato studiato un apposito modulo che si sviluppa attraverso le attività ludiche a tema. Sebastiano Forzisi è il comandante della Polizia Municipale di Acicatena da sempre convinto e sostenitore del progetto Legalità nelle scuole cittadine. Iniziamo oggi proprio in questo plesso e oggi parleremo e nei giorni anche a seguire parleremo con i ragazzi di Legalità che vada al codice della strada alla tutela delle strade e alla tutela in modo più generale di tutto quello che è il bene pubblico. I bambini delle elementari assorbono prima e meglio le nozioni comportamentali diventano loro stessi attenti controllori degli atteggiamenti tenuti dagli adulti in strada. L'iniziativa intende informare per formare le future generazioni su norme e regole stradali. Sarà il tenente Salvatore Finocchiaro a tenere ciclo di tre lezioni alla madre Teresa di Calcutta. I bambini di più mi fanno presente il discorso ad esempio degli ingerenti stradali. Come mai succedono tutti questi ingerenti stradali? e allora cerchiamo un pochettino di spiegare quali sono state le norme che sono state violate perché in ogni caso a monte dell'ingerente c'è sempre una violazione di norme può essere anche una distrazione come può essere una violazione di norme. E allora cerchiamo di insegnare a questi bambini che a volte il rispetto delle regole può salvaguardare anche la vita perché come sappiamo sulla strada succedono anche incedenti con esito mortale e quindi imparare le regole significa guadagnare soprattutto diciamo in sicurezza. Ed Antonino Laspina è il nuovo presidente nazionale dell'UMPLI, l'Unione del Proloco d'Italia. È stato eletto con 179 preferenze su 275 votanti. Era già il presidente regionale dal 2014. La Spina Antonino Sicilia, 179 voti. E questo è il momento della proclamazione di un siciliano catenese a nuovo presidente nazionale dell'Unione del Proloco d'Italia, la Unione che porta ad operare su base nazionale per la promozione del turismo. È stato eletto a Roma dai rappresentanti di tutte le proloco con 179 preferenze su 275. Si tratta di Nino Laspina, da sempre in prima linea a lavorare per lo sviluppo delle proloco siciliane di cui è presidente sin dal 2004. La sua elezione, oltre alla soddisfazione personale, è anche un riconoscimento alle proloco siciliane che in sinergia hanno operato per la crescita tanto ad arrivare alla presidenza nazionale. Assolutamente, è una grandissima soddisfazione perché andare a rappresentare una delle più grandi organizzazioni italiane, un'associazione che rappresenta 6200 località, 6200 proloco in Italia con oltre 600.000 associati, sicuramente è un grande onere, una grande responsabilità però che dà un senso ai sacrifici che abbiamo fatto in questi anni per far diventare la Sicilia un punto di riferimento per questo settore che ha dato sicuramente lustro a tutte le proloco a livello nazionale, che ha dato degli indirizzi molto chiari su come gestire e come fare turismo e come promuovere il turismo nei siti locali e questo appuntamento e questo grande risultato sicuramente è il culmine di questa avventura che ho iniziato ormai da quasi 15 anni nel mondo delle proloco e dell'UMPLI E' tutto, ci fermiamo qui anche per questa edizione di Ora TG che potete sempre riseguire attraverso il sito internet www.retv.it e la pagina Facebook di RetiV Grazie di averci seguiti, adesso le previsioni del tempo Il meteo è offerto da Il Centro Analisi SAEM del Dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale, vicino la Biblioteca Zelantea Centro Analisi SAEM del Dottor Antonino Di Carlo Apertura Laboratorio Prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato Centro Analisi SAEM Via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale Pirinfo 095 60 48 83 Le previsioni meteo per la giornata di martedì 8 novembre precipitazioni su quasi tutta la Sicilia sereno variabile su Catania e Siracusa Mari Mossi 20 sostenuti Le temperature nell'isola uscilleranno da 24 a 16 gradi a Catania e provincia 24 gradi la massima 16 la minima Il meteo è offerto da Il Centro Analisi SAEM del Dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino la Biblioteca Zelantea Centro Analisi SAEM del Dottor Antonino Di Carlo Apertura Laboratorio Prelievi tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato Centro Analisi SAEM Via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale Pirinfo 095 60 48 83 No 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 Grazie a tutti.